Chissà quante volte sarà successo anche a te che il prodotto che acquisti surgelato si scongela mentre lo porti a casa. E pensa che molte volte questo succede anche durante il trasporto verso il supermercato o nell'attesa di essere stoccato. Per questo motivo che le aziende delle grandi distribuzioni utilizzano elementi chimici proprio per prevenire la formazione di muffe o prolificazioni batteriche che avvengono ogni volta che abbiamo presente dell'acqua libera e quindi durante il decongelamento. Con l'abbattitore di temperatura live puoi surgelare in casa a meno 40 gradi alimenti freschi e selezionati avendo la certezza che la catena del freddo non si interrompa mai. La qualità si manterrà eccellente senza alcun rischio per la tua salute e per quella dei tuoi cari. Ma per la prima volta che è un'attesa di tutto quello che riuscione dal freddo non si interrompa mai. l'attesa di tutto il flore. La prima volta che si riuscite un'attesa di tutto il rischio per la tua salute e